Ben trovati dalla redazione di News24.city. Elezioni USA e Trump avanti nei sondaggi. Il tycoon new yorkese supera alla Clinton. Il giudizio negativo degli elettori su entrambi. Tailandia, rogo in un collegio, 17 i morti, tragedia in un villaggio vicino Chiang Rai, nell'estremo nord del paese. Elezioni in Austria, testa a testa di Van der Bellen e Hofer, deciderà il voto per posta, oggi l'esito definitivo. Referendum, boschi, partigiani, veri, voteranno sì e scontro sull'affermazione del ministro in merito alle riforme di ottobre. Marò, pressing dell'Italia per il rientro di Girone. La farnesina presenta la richiesta di attuazione della decisione del 29 aprile. Cannes, palma d'oro a Ken Lodge per High Daniel Blake. A dieci anni dà il vento a carezza all'erba. Serata di emozioni e standing ovation, nessun riconoscimento agli italiani.